buona sera a tutti utenti di games collection.it qui è zimax e questa è la terza parte del reso conto delle retro news per quanto concerne il mese di marzo quindi vediamo un po' cosa è successo questo mese cos'è salito e cos'è sceso di valutazione abbiamo iniziato il mese di marzo con castelvania chronicles pal per la playstation 1 che è terminato a 61 euro quindi più o meno il prezzo è rimasto lo stesso 50 60 60 via il prezzo è sempre lo stesso poi proseguiamo con siga saturn guardia nero che invece è schizzato a 124 euro quindi si sta alzando la quotazione a quanto pare neo geo blazy stars abbiamo avuto una cartuccia che era un mws con una conversione da parte delle mws che ho spiegato nelle retro news di cosa si trattava andatevelo a vedere perché sono il video viene lunghissimo e derivato 346 euro super famicom invece knights of the round titolo quasi oramai incomprabile a livello di palle comunque anche la giapponese sta prendendo quota è finita 184 euro 3d o super stress fighter 2 turbo la versione americana classica però era l'uso era il cd con la custodia del cd il manuale ma senza il long box cartonato esterno e ragazzi è finita 9 euro cioè io certe volte dubito che molte aste siano poi aprirò il discorso dopo veramente tarocche perché col cartone mi sembra averlo segnalato qualche mese fa è finita 100 115 euro e non penso che un cartone long box valga tipo 100 euro di differenza comunque un discorso incapperemo in alcune segnalazioni un po bizzarre in effetti con risultati a quanti equivoci abbiamo avuto un monkey island 2 che mi aveva segnalato fede web di a sua volta segnalarlo che era una copia senza manuale in vendita in indilterra costava mille sterline che erano 1255 euro però non mi spiace per tutti ma è ancora lì quindi il pezzo è fighissimo ovviamente però personalmente se fossi un collezionista di fm towns raro non raro che a 1000 euro senza manuale ragazzi fa caldo è venuto il monster hunter 3 hunter pack per la wii quel box carino fatto di cartone come un bauletto è rimasto lì non è stato venduto l'asta è scaduta senza offerte peccato l'ho segnalata io perché era un pezzo bello eccezionale condizioni come nuove con le tre statuette però degustibus poi altro titolo che sta salendo di quota per paradosso abbiamo anzi due titoli per playstation 1 il primo è clonoa completo con doppio disco che finita 130 euro quel disco anche dei demo e cosa bizzarra sotto castlevania symphony of the night una copia palita tenuta perfetta come nuova 126 quindi per paradosso è salito più clonoa che è sempre finito sui 70 80 nes metroid e probotector entrambi versioni palita metroid è finito a 172 euro probotector a 137 poi abbiamo un master system il famoso giochino dei puffi che era uscito nel 1996 solo nella repubblica cecoslovacca cioè 96 c'era già la playstation quindi rendiamoci conto è finita 346 euro che prima si comprava con un cazzo e ora cosa 346 euro perché è vintage è raro capite abbiamo avuto vabbè il classico heartbound per super nintendo americano 400 euro ma una novità questo gioco è sempre costato una fucilata perlomeno da quando più o meno l'ho iniziato a seguire poi ness banana price versione pal b 162 euro la console pc engine duo che mi sembra sia il primo modello con lettori cd se non dico una stronzata completo lo vedeva quel venditore giapponese yamamoto qualcosa del genere 162 euro quindi una cifra abbastanza accettabile in proporzione al pezzo per me ha avuto un pezzo fichissimo per super famicom che era il satellite ragazzi il satellite per il super famicom perché se sto a leggere la scritta qua faccio una figura di merda che ho già fatto ball boxato fighissimo costava 310 euro peccato che ora essendo una cosa che funzionava all'epoca e per lo più solo in giappone è un soprammobile cioè come se compraste un action figure però devo ammettere che un bel pezzo alla collezione inutile ma inutile nerd però un bel pezzo la collezione poi proseguiamo con due titoli per nintendo 64 che sono il primo smash bros che è finito a 69 euro è una copia di conquer completa americana che è finita a 137 contrariamente alla pal che oramai anche lì va al doppio più o meno poi anche qua ecco attenzione le ho segnalate tutte e due io una febbraio 1 sto mese allora una copia della colonna sonora di conquer che nel mese di febbraio usata con segni d'usura è finita a 115 euro una roba del genere che l'avevo segnalata a zori che lui appassionato al nintendo 64 ma è schizzata le stelle questa copia in cielo fanata nuova di pacca originale tutte finita a 30 euro perché quando uno dice le aste sospette che si rialzano stranamente gli ultimi secondi quindi super nintendo super mario world 2 yoshi island versione palla francese gialla anche questa mi destra un po sospetti perché è un gioco che la versione palita jig finisce sui 60 euro 65 la versione pal francese gialla è finita a 170 quindi se qualcuno ne sa qualcosa ma mi sembra quanto elevata come cifra comunque se sapete darmi delle delucidazioni ben venga aggiungetele nei commenti se pensate che dei valori siano sballati perché non siamo scienziati io segnalo le cose come vittorio però certe volte l'ho segnalato questo mese di aprile ho seguito personalmente delle aste con delle cifre che sono finite delle cose folli ma ne perdere il mese prossimo quindi se vedete qualche valore che è sballato secondo voi fatecelo presente perché il famoso non si finisce mai di imparare poi abbiamo avuto ritornando resident evil 2 versione spagnola per gamecube il famoso mito palita gamecube qui era la versione spagnola finito 64 euro poi c'è stato un lotto del nintendo 64 palita jig completo con tre pad ognuno di un colore diverso e quattro control pack e me lo ricordo perché quello che lo vendeva un ragazzo che abita qua vicino qua vicino da me è finito a 51 euro quindi anche lì cifra ottima per chi si volesse chi l'ha comprato ha fatto un affare perché erano quattro pad un nintendo 64 boxato completo e quattro memory card pochissimo poi c'è stata un'asta che anche qui non si è cagato nessuno ma era abbastanza interessante era un box che veniva venduto sul sito della capcom la famosa e capcom ed era il biohazard ost un cofanetto di 6 cd con la colonna sonora dei vari episodi finito a 34 euro praticamente niente proseguiamo con un squadron gioco di aeroplanini sparatutto della capcom per super nintendo terminato a 111 euro che è un certo tipo di prezzo che insomma è abbastanza e rialzo perché l'ho sempre finito visto finire sugli 80 75 poi comunque se avete delle delle botte di culo anche visto gente che era venuto a 25 euro questo gioco sui forum quindi o nei mercatini quindi è tutta una questione fortuna ragazzi comprare gli oggetti proseguiamo per il dreamcast altro titolo che sale scende più o meno 82 euro per project justice rival school 2 bel titolo esclusiva del dreamcast quindi il prezzo diciamo che abbastanza giustificato comunque ripeto bel gioco esclusiva la qualità si paga abbiamo avuto una copia che ho segnalato il già di another world per jaguar che è una conversione di questo gioco realizzata per jaguar da un gruppo che non mi ricordo come si chiama l'avevo scritto comunque è un gruppo indipendente che tanti anni dopo la morte del jaguar ha deciso di convertire ci sono quei gruppi anche per dreamcast che continuano a produrre determinati giochi no questa copia ne sono state fatte chiaramente poche mi sembra una settantina una sessantina state vendute sul sito 250 euro comunque è stata venduta poi un gioco non venduto che era nightmare before christmas per playstation 2 attenti al baobau versione palita 25 euro non venduto che a mio parere il prezzo abbastanza giusto perché non è un gioco facilissimo da trovare in versione gli amanti chiaramente dalla versione palita col box e tutto comunque il gioco è molto carino gradevole diciamo che il prezzo secondo me ci potrebbe anche stare comunque anche lì come dico sempre va a gusti poi c'è un gioco ecco le famose botte di culo non dicevo super ness justice league heroes task force che è una specie di injustice fatto per super nintendo c'è superman batman flash greenland freccia verde che se le hanno di santa ragione 78 euro e io l'ho trovato esattamente dicevo appunto le botte di culo a 8 euro mercatino qua nelle vicinanze proprio non lo conoscevo neanche questo gioco quindi poi vado di fretta se nel video diventa lunghissimo game boy color biohazard gaiden giappone la versione giapponese 41 euro legend of zelda per super nintendo palita completo perfetto 100 euro castelvania 3 in versione pal b per il ness chiaramente dracula scurse si chiamava 91 super nintendo c'è stato il seguito di joe mack che si chiama congo scaper versione pal 91 euro e poi abbiamo due titoli per il ness che sono battleship che è finita 104 e alt mate air combat versione palita che non è stato venduto a 222 euro non compralo subito c'è stata un'inserzione che mi ricordo ha messo vittorio della una specie di extra il piccolo grande maio dei videogames la video cassetta 34 euro che era nuova un bundle del super nintendo con killer easting che ho venduto io personalmente è finito a 91 euro quindi una cifra abbastanza bassa mancava l'alimentatore qualche cosa le istruzioni però tutta roba reperibile su internet comunque il prezzo nel senso ci può stare io stesso l'ho pagato onestamente leggermente di più quindi 20 30 euro di più 125 euro pagato quindi comunque resta un bel bandolo comunque poi c'è stata la console 320 euro era la playstation 2 gundam edition gold pack giapponese quella con la playstation dorata fighe che 320 euro chiedevano 320 euro probabilmente chiedono ancora ora perché ancora lì abbiamo avuto un nes balloon fight pala 210 euro e un'altra asta di quelle che dice ragazzi truffa in arrivo rialzo falso allora donkey con country 3 per play per scusate per super nintendo versione pal 282 euro questo qui deve essere un amico di quello che ha venduto la settimana scorsa final fight 1 pal uk a 480 poi c'era batman returns 260 ne parlavano giusto ieri con gli altri cioè la gente fanno queste alte fasulle no si rialzano i prezzi poi annulla la transazione e il primo coglione come posso essere io che magari ciò che ne sono final fight da vendere vado a vedere e dico guarda final fight l'ha venuto a 480 euro sono ricco allora magari fanno la compralo subito a 480 no che 400 cioè praticamente è un escale è una come gli un tori con la pesta è l'unzione degli imbecilli cioè la gente poi pensa di avere i sacri grali in casa che invece non valgono un cazzo il male del retro gaming per questo dico se vedete qualcosa di strano segnalate le spargette la voce per lo meno la gente non pensa ad avere gesù cristo in casa poi abbiamo avuto ricominciando super nes yoshi safari 115 euro il famoso super convoy che super nintendo la versione coreana distribuito dalla hyundai che il venditore chiedeva a 1065 euro peraltro mi sembra che mancasse l'alimentatore mancasse qualcosa non era proprio completo comunque chiedeva 1065 euro e per quanto concerne dato che ci parliamo tra di noi utenti dei games collection è stato sono state offerte da parte di un utente 800 euro e il venditore gli ha dato picche quindi questo venditore considerando che il super combo è ancora lì da un mese circa in bocca al lupo se deciderà di venderlo poi abbiamo avuto un'asta che non è stata venduta per msx2 castelvania 3 versione giapponese appunto è ancora lì super nintendo la follia il final fight guy quello esclusivo di blockbuster americano la versione americana appunto la giapponese è uscita in tutti i negozi giapponesi con o senza colonna sonora il guy è uscito solo in esclusiva blockbuster a noleggio non alla vendita ovviamente le scatole manuali ve li vanno buttati e trovarlo completo una fucilata c'è uno che l'ha venduto a 1200 euro proprio la settimana scorsa era 1400 l'ha ribassato a 1200 con proposta l'acquisto e l'ha fatto fuori questa era una cartuccia solo loose finita a 399 euro poi abbiamo avuto un nintendo 64 pa per mario pa al completo 121 super nintendo turtle star a man fighter 99 euro un prezzo in linea col valore solito idem della serie di prezzi linea sonic spin ball per master system finito 84 euro niente di nuovo e per quanto concerne le aste sono finite di questo mese vi segnalo ancora due cose che ho seguito io personalmente che sono state silent hill per la playstation 1 finito a 52 euro e demons crest pal per super nintendo della capcom finito a 247 in condizioni praticamente perfette detto questo ragazzi ci sentiamo il mese prossimo mi raccomando se avete delle aste o delle inserzioni che ritenete non sospette per quello c'è la famosa pagina facebook la peggio merda del web però delle aste che finiscono a dei risultati che magari voi le seguite finiscono a delle cifre esorbitanti non che noi siamo dei geni ok però fatecelo sapere anche per darci dei consigli e basarci anche noi sui valori delle prossime retro news perché come molti ma alcuni utenti segnalano che dicono alle retro news sono il male le retro news fanno di alzare i prezzi no le retro news secondo me sono un modo da appassionato me come gli altri di dire ragazzi c'è questo gioco figo in asta seguitelo secondo me ne vale la pena poi giochi possono essere rari e costosi o anche come quelli che a volte segnalo io in questi giorni anche ultimamente roba che magari costa 30 35 euro 20 euro 40 euro però che secondo me può valere la pena giocare o avere non è il retro gaming non deve essere solo cose rare o pezzi da 3 400 non è solo vampire kiss o snow bros o cioè cose che costano assolutamente quindi niente ragazzi vi lascio fatemi teneteci informati anche voi uno scambio perché se non vogliamo prendere penso che sia noi che voi se non vogliamo prendere o suggerire anche noi alla nostra volta delle inculate niente aiutiamoci a vicenda cioè se trovate la ripeto delle cose bizzarre fatecelo sapere ok tanto per non tirare anche voi la camola poi a nostra volta diffondere delle informazioni sbagliate per carità perché è l'ultima cosa che penso io come gli altri vogliamo e dare dei consigli e farvi spendere magari per un gioco che ne vale 50 dire è finito a 200 euro che poi magari appunto era un'asta relativamente del cazzo detto questo ragazzi taglio che il video è durato già 16 minuti vedo quindi ci vediamo ci sentiamo il mese di mese prossimo finite le aste passa da qualche giorno perché siamo lenti ci abbiamo tutti i cazzi nostri da fare il lavoro e che e poi il prossimo video ok nel contempo ragazzi buona serata alla prossima ciao a tutti